Allora, cosa vedremo in questo contenitore di immagini, possiamo definirlo così? Sì, quest'anno avremo l'occasione di parlare con due ospiti d'onore, come tutti gli anni fra l'altro, però in maniera particolare quest'anno gli ospiti si duplicano, nel senso che come suggerisce il titolo dell'edizione, duo, avremo ospiti due coppie di artisti e con loro quindi dialogheremo sia sulla loro ricerca, ma anche su come la loro ricerca poi diventi un tutt'uno con la loro vita privata, essendo coppie nella ricerca artistica ma anche nella vita. Sarà molto interessante, gli ospiti d'onore appunto sono Cuoghe Corsello e Botte Bruno, artisti italiani di Bologna e di Torino rispettivamente, le due coppie, artisti che però sono di livello internazionale e che spongono nelle principali istituzioni, sia del nostro paese che all'estero. A Centrale Fotografia quest'anno avremo la possibilità anche nella splendida cornice della chiesa di San Pietro in Valle di vedere la mostra Dammi Photobook, ovvero una mostra di libri fotografici realizzati da 51 autori che presenteranno 51 libri opera. Sottolineo opera perché non sono dei libri fotografici tradizionali, sono dei libri oggetto, dei libri in tiratura unica, dei libri molto preziosi dove i singoli autori si sono confrontati in un gioco interessante di utilizzo della carta, delle immagini, dei materiali, dei tessuti che le compongono. Inoltre nella sagrestia della stessa chiesa di San Pietro in Valle ospiteremo un'installazione molto puntuale e precisa di un artista toscano che si chiama Nico Giovanni Coniglio e che presenterà un progetto intitolato Daniela, ritratto di mia madre. Un lavoro molto intimo, molto personale sul rapporto affettivo ma anche di collaborazione artistica con la madre. Inoltre un omaggio all'artista fanese Marcello Di Otallevi e una serie di presentazioni di libri che ci accompagneranno nella giornata di domenica Generazione Critica e un altro volume invece dedicato alla cultura e alla fotografia marchigiana.